Ora è Pico Questo si trovo Pongiorno 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 Una prende La dentro La levo Quattro O lo rogo Pongiorno Dobbiamo Pongiorno 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 Croccia 5 5 5 6 7 8 9 10 10 11 7 3 7 7 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 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 16 19 18 19 15 15 15 16 16 16 16 20 18 20 20 20 20 21 Grazie.